Per fare questo video mi sono dovuto spostare nella Val d'Aosta dove ci sono le montagne del Signore degli Anelli, le case, i tralici dell'antenna e il Dottor Koch. Signori buongiorno, buone feste e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai e il vostro ospite su questo canale. Il video speciale di metà settimana, prima di tutto per ringraziarvi di quanto avete seguito il canale, in questo periodo il canale è cresciuto molto più del solito, quindi non so chi abbia segnalato il mio canale in giro ma chiunque tu sia, grazie. E poi anche per farvi gli auguri delle feste che nei video precedenti non avevo potuto perché in questo periodo sono stato oberato dal lavoro che ho dovuto fare per il video della settimana scorsa, quello su Cyberpunk e sul suo seguito quello che vedrete la settimana prossima che sempre in argomento Cyberpunk sono due video speciali per festeggiare l'arrivo alla nuova decade, l'inizio del 2020 che per chi come me da ragazzino giocava a Cyberpunk quando quella era la visione che negli anni 90 avremmo avuto del 2000, diciamo che alcune cose ci hanno preso, altre ci sono andati veramente molto lontano, in realtà sarà l'argomento del video della settimana prossima in cui faremo un recap della storia all'interno del gioco e io per motivi diciamo per mantenere la fedeltà anastatica mi sono riportato a riportare gli avvenimenti come sono descritti nel gioco senza commentarli ma se seguirete questa sorta di finto telegiornale che vi proporrò potrete notare che alcune cose che vengono dette in quella cronologia sono effettivamente successe anche nel mondo reale anche se non esattamente come erano state pianificate almeno dagli sviluppatori del gioco. Creare quei due video ha chiesto veramente tanto impegno e non ce l'avrei fatta se non fosse stato per l'aiuto del dottor Koch del canale e coxpoop che voglio ringraziare pubblicamente in questo momento, passate a trovarlo sul suo canale e è bravissimo a fare quello che fa anche se adesso ha interrotto l'attività per motivi di lavoro e con la scusa del fare un video di auguri di buone feste ci butto dentro anche un video di making of su come è stato realizzato quel video per quelli che sono curiosi. Per quelli che non sono interessati chiudete pure quel video nessun rancore buone feste ci rivedremo direttamente poi direttamente nella prossima decade. Per tutti gli altri questo è il modo in cui il video su cyberpunk è stato realizzato. Ovviamente il video è realizzato praticamente tutto in green screen abbiamo dovuto allestire uno studio a casa del dottor Koch in cui stendere il telo e montare tutti i fari tra l'altro io normalmente per registrare uso due semplici faretti mi sono dovuto appoggiare a lui anche perché per fare un green screen fatto decentemente servono delle luci a led molto più potenti cosa che probabilmente nel video si noterà anche e vi posso assicurare che all'interno di quella stanza la temperatura era astronomica anche perché abbiamo registrato fondamentalmente a fine agosto inizio settembre sì il video è stato praticamente registrato questo autunno e io come vedete nel video avevo una giacca di pelle addosso che tenevo un caldo con quattro fari addosso non so come ho fatto a sopravvivere il motivo per cui il video è stato registrato così tanto in anticipo è stato che la post produzione è stata massacrante perché oltre ad applicare l'effetto la maschera di green screen per appiccicare me sullo sfondo se notate la finestra che ho alle spalle che corrisponderebbe a questo mobiletto qua a sua volta contiene un green screen con l'animazione in una città e questo è tutto altro lavoro del dottor coq e se non l'avete notato riguardatevi il video l'angolazione dei palazzi cambia in base a colma cambia l'inquadratura quando mi volto da una parte dall'altra ognuno di quei palazzi è stato creato con una finta prospettiva e poi sopra sono stati applicati degli effetti per renderla questa città cupa in lontananza che fa molto night city che è l'ambientazione base di cyberpunk per adattarsi all'estetica anni 80 non solo ho rifatto tutte le grafiche del canale anche la l'immagine il logo del canale è stato rifatto per adattarsi allo stile cyberpunk ovviamente abbiamo fatto riferimento al manuale originale del gioco questo fra l'altro appare anche nel video e in realtà più che altro i moduli di espansione che sono pieni di immagini che poi abbiamo cercato di ricreare sia con quel mio vestito da pirla sia con la città alle spalle e lo sfondo tridimensionale lo sfondo tridimensionale tra l'altro è stata una delle cose che ha richiesto più tempo perché l'ho realizzato e mi sono anche filmato mentre lo faccio quindi questa puntata oltre a essere uno speciale del making of e uno speciale degli auguri anche uno speciale del modellismo col master kai perché se siete interessati questo è come è stato effettivamente realizzato il fondale che ho alle spalle la prima parte ovviamente è stata quella di fare la base considerate che questo l'ho fatto a giugno dell'anno scorso mentre registravo quelli che sarebbero poi diventati i video del modellismo col master kai che vedete durante l'estate nulla di particolarmente complesso difficile semplicemente cartone righelli penne tutte cose che abbiamo già visto nei video del modellismo solo che in questo caso la scala è stata maggiore per le dimensioni ho fatto riferimento al mobile reale che vedete qui alle mie spalle ho preso le misure del mobile che vedete alle mie spalle quando faccio i video e ho fondamentalmente ricreato una scenografia che fosse in scala 1 a 50 fondamentalmente una volta che ho preso le misure per bene mi sono limitato a riportarle sul foglio e la prima cosa che ho fatto è stato fondamentalmente mettermi a lavorare su quello che diventerà il bancone quello su cui vedete le scatole di warhammer appoggiate in realtà nel video si vedrà poco ma ha una funzione meccanica di tenere rigida l'intera struttura mentre la riprendevamo per il green screen da un foglio di cartone ondulato ho ricavato una base questa non serve a niente se non tenere la struttura in piedi all'inizio avevo pensato anche di non metterla ma in realtà così ritorna molto più comodo e poi ho fissato con la col da caldo la parte frontale del bancone fatta con il cartoncino rigido per ulteriore supporto ho aggiunto anche una parte dietro di cartone ondulato in realtà questo non si deve vedere serve semplicemente a rendere rigido il piano nel tavolo e questa è la base del progetto come rimane se vedete in realtà non è perfettamente parallelo ma questo serve per dare un'impressione di profondità in modo che il piano sembri effettivamente più lungo da una parte il muro vero e proprio non è altro che un pezzo di cartone ondulato in modo che sia leggero e rigido su cui sopra sono stati appiccicati tutti gli elementi che poi fanno la scenografia i tubi sono semplicemente delle cannucce incollate sopra con la colla caldo e poi verranno verniciati tutti gli altri elementi sono stati realizzati semplicemente come scatole di cartone al cui interno è stato appiccicato dall'altro cartone ondulato per renderle rigide sopra ho poi ricavato con del cartoncino un po più sottile tutti i vari elementi pulsanti le prese d'aria che avete visto nello sfondo questo per dare un tocco fantascientifico al tutto la parte più difficile da realizzare è stata probabilmente la cornice della finestra che ho alle spalle che serve anche come base per l'effetto di green screen secondario in realtà anche questo è solo del cartone ondulato a cui sono stati appiccicati dei bordi e degli spessori ed ecco come arrivaneva quando è stato completato prima che venisse data la vernice ho coperto tutti i bordi di cartone che rimanevano con un po di materia verde ovviamente la resa non è perfetta ma non doveva neanche esserlo tanto lo sfondo sarebbe evidentemente sembrato finto per dipingerlo prima ho dato un fondo in bomboletta nera e poi un fondo sempre di bomboletta metallizzata in modo che la maggior parte delle cose che dovevano avere un colore metallico sarebbero rimaste già dipinte così poi su tutte le zone in cui non avrebbe dovuto esserci il colore metallico fondamentalmente il muro vero e proprio ho applicato dello scottex e del nastro carta e ho dato una seconda passata con una bomboletta di un colore grigio ghiaccio questo mix di colori di colori metallici e un grigio bluastro in realtà è tipico di quello che si vede nelle ambientazioni cyberpunk degli anni 80 quindi non è qualcosa di così appariscente che disturba ed è anche in tema a quel punto col pennello mi sono limitato a mano a dipingere tutti i cavi e tutti i pulsantini cercando di dare un effetto di luce sui pulsanti in realtà ho scelto tutti i colori particolarmente chiari in modo che staccassero dallo sfondo nel video vero e proprio si vedono poco ma in realtà va bene così questo deve comunque risultare uno sfondo la parte importante sono io davanti che faccio il cartino ed ecco il risultato finale il finto studio in scala del master kai che ha fatto da sfondo a tutto il video e sarà anche la cornice del prossimo video diciamo che per questo video è tutto se vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate il tasto della campanella se volete ricevere le notifiche io sono il master kai noi ci vediamo al prossimo video